Esistono tante forme di discriminazione. La più comune è quella razziale, di cui abbiamo parlato. Poi c'è anche una forma di discriminazione meno legata ad aspetti fisici, ma ad aspetti culturali. C'è la discriminazione religiosa, c'è la discriminazione caratteriale, che è forse l'argomento che più di tutti si avvicina, per esempio, alle kikomori, in quanto generalmente è un ragazzo timido, introverso, o che comunque condivide caratterialmente magari meno rispetto ai suoi compagni di classe. C'è una discriminazione per le passioni. Il fatto che io magari ho una passione particolare, vengo considerato sfigato, non lo so. Se io sono appassionato di fumetti, potrei essere discriminato da altri per questo tipo di interesse. Insomma, l'essere umano ha questa tendenza. Questa tendenza a selezionare e attribuire valore positivo o negativo in base a quanto si riconosce affine con il fisico, con la mentalità, con i valori, con le idee di un'altra persona. E se questa persona si trova, per qualsiasi motivo, in una condizione di minoranza, per cui la sua peculiarità non è la peculiarità dominante in quel momento, ma è probabilmente quella sia minore, non tanto da un punto di vista numerico, ma quanto da un punto di vista di forza, anche forza di farla valere, farla in qualche modo rispettare quella sua differenza, ecco lì si crea una discriminazione che è appunto un comportamento denigratorio, vessatorio, che può portare, per esempio nel caso degli Kikomori, al bullismo, al fatto di essere emarginati all'interno della classe, al fatto di essere lasciati in disparte, al fatto di essere giudicati negativamente con determinate caratteristiche che poi la persona stessa finirà per sviluppare. Infatti non è un caso che, per esempio, di Kikomori viene percepito talvolta come una persona antipatica, anche perché questa sua antipatia viene creata da un comportamento, altrui, che la genera a sua volta, per cui è un meccanismo di difesa. Però, senza dilungarmi oltre rispetto a queste tematiche che ho già trattato in realtà in altri miei video e in altri miei podcast, oggi voglio parlare di un'altra forma di discriminazione che sta crescendo enormemente nella società attuale ed è una tipologia di discriminazione che sento molto anch'io sulla mia pelle. E parlo della discriminazione alimentare. Cosa intendo con discriminazione alimentare? L'avrete già capito. Si intende il fatto di attaccare, rimarginare, vessare, attribuire e giudicare negativamente una persona in base alle proprie attitudini alimentari. Per parlare di discriminazione alimentare voglio partire anche dalla mia esperienza, come spesso mi capita. Ormai avrete capito che mi è utile ricostruire anche da dove sono nati i miei interessi e come io mi ci sono trovato, per esempio, in questa condizione, che ovviamente è meno grave rispetto ad altre condizioni, per carità non è sicuramente paragonabile a una discriminazione razziale o a una discriminazione religiosa, ma è comunque una forma di sofferenza sociale che può portare anche talvolta a forme di esclusione sociale, seppur magari non, come dire, eccessivamente estreme come quella degli Hikikomori, ma può comunque portare sofferenza, autolimitazione, autocastrazione di magari momenti che avremmo invece preferito vivere. Io sono sempre stato un ragazzo nervoso e questo nervoso, questa ansia, chiamiamola così, che è un termine più corretto, mi ha portato appunto ad avere quella che viene chiamata fame nervosa e che mi portava a mangiare veramente in modo incontrollato. Ogni momento della giornata era buono per mangiare merendine, patatine e in generale cibo spazzatura di qualunque tipo e forma. Non avevo nessun tipo di regola alimentare, mangiavo a qualunque ora del giorno, qualunque cosa mi venisse voglia di mangiare, in particolare appunto merendine dolci e questo in realtà per tanto tempo non mi ha mai posto particolari problemi. Finché, come ho raccontato anche nel video che trovate su Hikikomori Italia relativo all'ipocondria, una fase della mia vita molto molto pesante, ho incominciato ad avere dei disturbi, in particolare dei disturbi urologici che erano però connessi, come spiego in quel video, a dei disturbi di natura sia ansiosa ma anche comunque fortemente gastrointestinali. Insomma, avevo difficoltà, ho iniziato a sviluppare difficoltà di digestione, dolori, reflusso e tutto ciò che si può accompagnare a questo tipo di problematiche. E inizialmente devo dire che non avevo collegato minimamente questi disturbi al cibo che ingurgitavo perché in realtà il cibo che ingurgitavo non lo calcolavo veramente. Per me era qualcosa di normale mangiare appunto quel cibo che vendevano ovunque nei supermercati. Il fatto che lo vendessero per me era già una prova che potesse essere mangiato e che si faceva male ma non lo vedevo come un male attuale, come un male che mi avrebbe condizionato la vita nel presente ma lo vedevo eventualmente come quelle paure, no? Astratte, future che un giorno, sì, un giorno lontano forse arriveranno, chissà quando. In realtà appunto il cibo su di me anche per questa mia incontrollabilità della fame che appunto mi portava a mangiare in modo assolutamente non finalizzato a soddisfare un bisogno di sazietà ma era proprio una fame che mi portava a mangiare semplicemente per scaricare la tensione semplicemente per tenermi impegnato semplicemente perché non avevo magari in quel momento nulla di meglio da fare poi ovviamente mangiare schifezze fa sì che costantemente tu abbia bisogno di nuovi stimoli sia da un punto di vista psicologico ma anche fisico lo zucchero crea in particolare grande dipendenza ma anche il grassi insomma lo sappiamo bene il cibo che effetti ha sul nostro corpo dunque avevo questa questa mia grande predisposizione la potremmo chiamare anche in certi casi binge eating ovvero proprio abbuffate di cibo a spazzatura che ripeto mi portarono piano piano a sviluppare dei problemi questi problemi poi io li ho ricondotti effettivamente al cibo e anzi mi sono stupito di quanto il cibo impattasse su questi miei problemi e in realtà tutte le mie problematiche di natura fisica che mi portarono a fare enormi quantitativi di visite mediche ripeto vi rimando il video su dipocondria se siete interessati mi stupì di quanto fossero collegati fondamentalmente a due fattori il primo era appunto l'alimentazione e secondo l'ansia in realtà però appunto l'alimentazione dipendeva molto anche dall'ansia quindi in definitiva tutto il mio problema stava lì e appunto cercando di migliorare le mie condizioni che versavano a un certo punto davvero in condizioni critiche semplicemente per le reazioni anormali che il mio fisico anormali nel senso di non comuni che il mio fisico aveva di fronte al cibo mi portarono a dover cominciare a porre molta attenzione sul cibo però non è che applicai una dieta particolare sì ogni tanto magari provavo a fare una dieta sana tra virgolette in senso lato però anche su cosa sia sano e non sano c'è molto dibattito non è chiaro quindi quello che feci è applicare una dieta esclusiva cominciai a notare poca attenzione su quelli che erano i cibi che quando io mangiavo poi mi davano dei problemi dei problemi di digestione dei problemi urinari che erano conseguenti e in generale appunto tutto questo mi portò davvero a informarmi a capire di più ma veramente più che informarmi sui libri sui video e quant'altro provai a incominciare ad ascoltare il mio corpo che è la cosa più importante che abbiamo e spesso forse sottovalutiamo anche la grande intelligenza che ha il nostro corpo nell'identificare quei cibi che ci danno fastidio attraverso varie forme attraverso la creazione di aria attraverso la non so di aria stipsi attraverso il mal di stomaco attraverso il mal di testa il nostro corpo ci dà tanti segnali su cosa ci fa bene cosa ci fa male generalmente noi li ignoriamo e di solito continuiamo a tirare avanti non ponendo troppa attenzione a questi a questi segnali e poi appunto sviluppando psicopatologie di diversa natura col passare del tempo in particolare obesità diabete disturbi cardiovascolari insomma quasi tutte le patologie io mi sentirei di dire tutte le patologie al netto delle predisposizioni ereditarie sono in gran parte causate dalla nostra alimentazione oltre che ovviamente dall'inquinamento insomma da quello che immettiamo nel nostro corpo consapevolmente o inconsapevolmente certo l'inquinamento possiamo controllarlo fino a un certo punto l'alimentazione abbiamo un controllo sicuramente maggiore tutto questo per dire cosa che nel mio processo di esclusione a un certo punto ho dovuto togliere alcuni cibi che mi sono reso conto mi facessero particolarmente male e piano piano appunto ho capito quali erano i cibi che mi creavano particolari problemi e quelli che invece potevo mangiare senza troppi problemi e che continuavo a digerire questo mio processo di conoscenza di me stesso e di quello che appunto il mio corpo richiedeva mi ha portato un enorme beneficio un beneficio forse incalcolabile dal punto di vista del benessere psico emotivo e ne ho parlato anche di questo su Ikikomori Italia di come il cibo possa davvero fare una differenza a livello anche di umore a livello di energia a livello di tutto cioè onestamente tutto ho visto proprio un cambiamento del mio corpo a 360 gradi attenzione non parlo di diete vegane io non sono vegano non sono probabilmente non rientro in nessuna dieta che ha un nome è una dieta nel senso davvero costruita e cucita su misura in base alle mie ai risponsi del mio corpo certo non ho escluso nessun alimento totalmente forse solo uno ma appunto sono alimenti che già vengono di solito sconsigliati anche nelle riviste mediche non voglio entrare nel merito di quali alimenti perché non mi interessa in questo video non è la questione del video e probabilmente anzi sicuramente non sono la persona più competente per parlarne però quello che voglio dire è non è una dieta assolutamente folle è folle nel senso di estrema come se ne sentono oggi è una dieta dove mangio più o meno tutto ma in dosi magari molto diverse rispetto a quelle che fanno le persone normali e appunto questo mi ha dato grandissimi benefici non voglio dire neanche cosa mangio cosa non mangio anche perché sono convinto che ogni persona sia diversa quindi non sta a me dire queste cose anche se ovviamente ci sono degli alimenti che sono comprovati come alimenti negativi per il nostro organismo ma appunto non voglio entrare nel dettaglio quello che mi interessa di cui mi interessa parlare sono delle ripercussioni sociali che questa mia scelta chiamiamola così scelta anche se poi in realtà è qualcosa che mi è stato dettato dal mio organismo quindi la scelta era sostanzialmente se andare avanti a stare male tutti i giorni o modificare il mio comportamento alimentare con tanta tanta fatica perché era veramente catastrofico era veramente un disastro quindi ho dovuto fare delle rinunce abnormi delle sofferenze psicologiche delle autocastrazioni veramente che mi hanno richiesto uno sforzo di sì di autocapacità di controllo che niente nella mia vita mi ha richiesto nemmeno l'università nemmeno altri aspetti nemmeno la separazione dal videogame da qualunque altra cosa ecco il cibo è stato veramente un percorso difficile ed è stato difficile anche appunto per le implicazioni sociali perché perché appunto come volevo parlare in questo video e come finalmente sono arrivato a parlarne la scelta alimentare che ognuno di noi fa che potrebbe essere vista come una scelta assolutamente personale che non dovrebbe destare nessuna preoccupazione agli altri perché in fondo noi mangiamo qualcosa e non è che lo imponiamo di mangiare agli altri eppure le nostre scelte alimentari soprattutto se particolari rispetto a quelle degli altri destano sempre grandi grandi critiche grande scetticismo grande sì anche ostilità per diversi motivi il primo è quello per cui di solito vengono criticati i vegani per cui c'è molto stigma oggi sulla figura del vegano ovvero il fatto che una scelta alimentare di un'altra persona ti fa sentire in colpa e ti fa in qualche modo sì ragionare sui tuoi glori e questo ti dà fastidio quando qualcuno ci fa sentire in colpa attraverso il suo comportamento che noi leggiamo come qualcosa che vuole in qualche modo insegnarci come come se il fatto che io non mangi determinati alimenti perché secondo me fa male a me ma anche se in generale io sostengo che facciano male questo non significa che io voglio che tu non li mangi e questo è un comportamento che di solito attira per esempio molta ostilità sui vegani o su in generale i vegetariani perché magari c'è il tentativo da parte di questi ultimi o viene letto il tentativo da parte di questi ultimi non solo magari di scegliere cosa mangiare ma anche di imporre un certo tipo di diktat alimentare cosa che in molti casi può essere anche vera in altri casi invece è una sensazione appunto di colpevolezza indiretta che la persona sente sentendo la parola vegano che oggi davvero sta incominciando a caricarsi sempre di più di stigma per cui davvero esistono molti molti ambienti sociali dove dire sono vegano vegetariano potresti essere messo al bando ripeto io non sono vegetariano quindi questa non è una battaglia mia personale però avendo un regime alimentare particolare ho dovuto affrontare alcuni stigmi sociali per esempio faccio un esempio io ho dovuto smettere di bere alcolici anche per la questione appunto relativa a tutto quello che ho detto fisico ma anche per poi una mia scelta personale perché la cosa interessante è stata che tutto è nato per un motivo non morale questo non ce l'avevo sono onesto tutto il motivo che mi ha spinto a cambiare la mia abitudine elementare è stato un motivo puramente egoistico se vogliamo dirla così ed è stato quello di farmi del bene a livello fisico però è anche vero che cambiando le mie abitudini elementari e informandomi anche molto sul cibo ho capito anche tante cose e le motivazioni sono diventate diverse quindi se magari all'inizio evitavo di mangiare qualcosa perché mi faceva stare male poi lo evitavo anche perché comunque anche se il mio stomaco lo digeriva in quel momento preferivo evitarlo in generale l'alcol in realtà non è da questo punto di vista è molto il fatto che mi dà parecchia 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 acidità di stomaco non è questo il punto il punto è che io per esempio non bevendo alcol mi trovo sempre in difficoltà quando mi trovo a uscire con una ragazza a un primo appuntamento che vai in un locale o anche con gli amici c'è per carità però con gli amici magari sono più abituato a giustificarmi con una nuova persona con un nuovo conoscente o con una ragazza in particolare dove magari c'è tutto da scoprire e ecco una delle prime cose che vengono fuori su di me è questa mia difficoltà nel mangiare e nel bere che ripeto non è una cosa particolarmente grave diciamo così sul mangiare perché potendo scegliere io a meno che non mi portate in un giro pizza ecco posso comunque selezionare qualcosa che è normale socialmente e non crea problemi a nessuno se non che magari faccio alcune richieste specifiche per esempio se ci sono i latticini cosa che io non riesco a mangiare per una mia intolleranza ecco non è un problema particolare invece per esempio sull'alcol lo diventa molto anche da un punto di vista sociale perché l'idea che uno sia astemio io non mi definisco astemio perché odio le etichette infatti non sono astemio ogni tanto bevo può darsi che ci sia l'occasione in cui bevo se c'è da fare un brindesi sociale lo posso anche fare nel senso non è che un dito d'alcol mi uccide però generalmente sì sono quasi diciamo privo d'alcol nel mio corpo e questo per esempio è un problema perché se esco con una ragazza o lo giustifico oppure ingoio l'ospo e prendo dell'alcol voi direte ma che cavolo te ne frega di non prendere dell'alcol eh però sono d'accordo infatti non lo sto facendo ma ci sono sempre in ogni scelta come dire non considerata comune a livello sociale delle implicazioni comunque delle ostilità comunque anche a volte del giudizio del giudizio che magari ti connota molto già un primo appuntamento il fatto di dare un'impressione particolare all'altra persona potrebbe essere comunque abbastanza vincolante e questo appunto è un aspetto poi anche comunque con gli amici il fatto che magari selezioni alcuni ingredienti piuttosto che altri fai delle richieste magari un po' più particolari per fare un esempio io sto cercando di evitare quasi completamente la farina bianca che è una delle cose che a me dà più fastidio in assoluto vedete la farina bianca per esempio non è un alimento escluso da nessuna dieta vegana vegetariana è un alimento che a me particolarmente crea problemi mentre la farina interiale no voi direte perché non lo so bene neanch'io perché è una questione di gestione del mio organismo comunque anche solo questo potrebbe creare e crea fattualmente e concretamente spesso dei problemi di giustificazione del dover dire perché del dover spiegare del dover entrare nel merito e cos'hai quale problemi hai ma è tutta una tua questione psicologica ma perché ma sei troppo attento ma sei troppo rompipalle insomma è complesso anche quando magari ordina un cameriere ecco e chiedi semplicemente cosa c'è in questo piatto che mi stai portando non perché voglio rompere le palle ma è mio diritto comunque sapere cosa sto mangiando può sembrare una stupidata però se io voglio sapere cosa sto mangiando dovrebbe essermi per legge garantito e invece c'è questo paradosso che se andiamo a comprare un alimento in un supermercato troviamo vita e morte miracoli di quel di quel prodotto e sappiamo tutto da quando è incartato a quando dobbiamo consumarlo a ogni singolo microprodotto e microalimento all'interno e io penso che sia giusto forse a volte addirittura eccessivo ma in generale penso sia giusto e poi c'è la parte completamente opposta l'estremo opposto il ristorante o la trattoria o diciamo in generale la tavola calda quello che volete il bar dove ti portano dei piatti dove tu assolutamente non hai idea di quello che ci sia dentro non hai idea con che ingredienti sono stati creati non hai idea di niente praticamente c'è solo il nome del piatto due parole e tutto il resto è lasciato all'immaginazione vedete che ci deve essere qualcosa in mezzo probabilmente in questi due estremi adesso io non voglio che sotto al piatto di un ristorante mi dicano ogni singolo alimento nel dettaglio minimo di provenienza e tutto però almeno sapere di che cosa è composto dal cibo che sto mangiando sarebbe una cosa secondo me corretta e civile proprio perché da una parte è così e il paradosso gigantesco è che dall'altra non c'è nessun tipo di attenzione se non appunto che tu chiedi al cameriere e spesso questo ti rivolge uno sguardo di pietà come dire poverino in questo c'è i problemi che palle cosa vuole cosa gli devo portare ecco io questo stigma ve lo assicuro lo sento tantissimo anche lo stigma delle persone che mi guardano che si chiedono che problemi abbia se sia pazzo tutto questo davvero per me è un problema sociale per me lo ha creato e lo crea tuttora e lo creerà in futuro perché appunto c'è un po' questa sensazione che il diverso il diverso da qualunque punto di vista il non normale e qua torniamo al concetto di non normalità ovvero c'è una normalità sociale per cui le persone devono essere in un certo modo se tu non lo sei devi giustificarti devi dire ok perché non lo sei perché non sei una persona normale come me come gli altri ecco questa è una cosa che immagino tutti di voi sentirete sulla vostra pelle immagino che sia un problema diffuso a diversi livelli ecco c'è quello alimentare ma come detto ce ne sono tanti altri in questo podcast in particolare volevo concentrarmi sul tema alimentare perché secondo me spesso non se ne parla di questa discriminazione che però può portare anche per esempio alla decisione di non uscire una sera con gli amici perché hai paura di andare in un posto dove non puoi scegliere il cibo che mangerai quindi magari stare male oppure non uscire con ragazzi in un bar dove si bevono solo alcolici perché appunto non puoi farlo e rischi di fare subito una brutta impressione in generale le occasioni pubbliche sono legate al cibo ho fatto anche un podcast dove parlo di mangiare da soli se l'avete sentito è di qualche giorno fa vedete l'alimentazione è un momento sociale il pranzo la cena sono momenti sociali e quindi anche lì ci si aspetta come in ogni ambito sociale che l'essere umano abbia un comportamento appunto lineare normale prevedibile che non vada oltre quello che sono le concezioni comuni e se è così perché lo fai forse perché mi vuoi far sentire in colpa forse perché ti senti migliori di me forse perché mi vuoi insegnare qualcosa e quindi già io parto prevenuto quindi già alzo la barriera divento ostile in realtà io ripeto non ho mai avuto comportamenti che possono sembrare in qualche modo giudicanti ma il solo fatto di dire che un alimento per te fa male sembra che lo stai stai giudicando una persona in realtà secondo me la cosa fondamentale è che ci sia una corretta formazione perché perché spesso ci sono degli alimenti che fanno male anche a livello comprovato quindi a livello scientifico prendiamo per esempio la carne rossa lavorata quindi non so gli insaccati eccetera dire che la carne rossa fa male non significa dire alle persone non dovete mangiarla per me per come la vedo io io sono molto aperto alle scelte di ognuno ognuno fa quello che vuole però significa dirlo cioè almeno lo sai poi tu sai che qualcosa fa male vuoi farlo comunque fa male solo a te non sta danneggiando nessun altro né sulla carne rossa c'è il tema dell'inquinamento globale però vabbè lasciamolo stare per un attimo ammettiamo appunto che quell'alimento faccia male solo a te il consumo va bene cioè l'importante è che per me tu lo sappia se sei un mio amico ci tengo a dirtelo se sei un mio conoscente ci tengo a informarti poi tu puoi fare quello che vuoi cioè io posso anche autodistruggermi ripeto se questa cosa è qualcosa che io ritengo essere giusto chi sono io per dirti che tu non devi autodistruggerti chi sono io per dirti che tu non devi fumare l'importante è che non mi inventi il fatto che fumare faccia bene a quel punto io potrei anche dirti no non sono d'accordo stai dicendo una stupidata ma tu mi dici io so che fumare fa male io so che mangiare questa cosa fa male la voglio mangiare lo stesso non mi importa va bene sei un adulto scelte consapevoli io ti dico so che questa cosa fa male non la voglio mangiare e molto spesso sono io quello che viene giudicato per questo tipo di scelta prendetelo anche un po' come uno sfogo questo podcast non ovviamente come avrete capito questo mio secondo canale lo utilizzo anche un po' come sfogo personale penso che comunque porterò altre volte la mia esperienza personale come prima facevo su Kikomoritalia come adesso invece voglio fare sempre di meno ma lo sposterò questo antro diciamo anche un po' confessionale da questa parte dell'internet su questo secondo canale perché comunque mi è utile mi fa piacere a me condividere delle cose anche private perché come ho parlato dell'ipocondria che ho citato degli aspetti molto privati della mia vita però ecco sono cose che comunque mi fa piacere condividere mi fa piacere avere degli scontri il video su l'ipocondria per esempio è stato molto apprezzato molte persone mi hanno scritto su quel video dicendomi guarda ho vissuto tante cose simili a te quindi penso che comunque abbia dei riscontri positivi parlare di certi temi e ripeto quello della discriminazione alimentare se così la vogliamo chiamare è un tema che mi sta molto caro è un tema che soffro molto è un tema che mi porto dietro da tanto tempo ripeto non è probabilmente anzi sicuramente una delle forme di discriminazione più pericolose come quelle razziali eccetera ma può provocare danni fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se anche voi avete questo tipo di sensazione questo tipo di difficoltà sociale e appunto ci vediamo domani grazie mille grazie a tutti